Per il momento la discarica Tremonti-Dimola continuerà a rimanere chiusa e quanto scaturito dalla recente presa di posizione assunta dal Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla richiesta di sospensiva avanzata da Era Ambiente, Regione Emilia Romagna e Conami in merito alla sentenza del TAR che ha bloccato il progetto di sopraelevazione di parte della discarica. Era Regione Conami, che hanno presentato altrettanti ricorsi in merito alla sentenza del TAR, chiedevano che in attesa della loro discussione fosse sospesa la chiusura della discarica. Il Consiglio di Stato ha invece deciso di prendere tempo confermando lo status quo sino a quando, probabilmente entro l'anno, la questione verrà esaminata nel suo merito complessivo. Molto probabile che sulla decisione assunta abbia pesato l'imminenza Imola delle elezioni amministrative con un clima politico surriscaldato nel quale la questione Tremonti tiene banco da tempo fra polemiche e accusi incrociate. Per gli oppositori all'ampliamento della discarica si tratta comunque di una mezza vittoria. Il principio che gli affari di un gruppo privato valgano più della salute dei cittadini non è passato, è il commento della candidata a sindaco dei Cinque Stelle. Secondo il Movimento, infatti, Imola, con la raccolta differenziata e diverse strategie di smaltimento, può diventare città a rifiuti zero. Al momento nessun commento invece da parte di Regione Aeree Conami, che sostengono la correttezza procedurale del progetto di sopraelevazione e la sua necessità per assicurare alla zona di Imola l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti.